Proseguendo un percorso avviato nella scorsa edizione del Festival Dialoghi sull'Uomo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha promosso un'occasione di riflessione attorno al tema del perdono. Una giornata di studi proposta presso la sede di Uniser che attraverso il contributo di relatori di livello nazionale si è offerta come un momento per affrontare questo tema sotto vari aspetti, da quello storico al giuridico sino alla dimensione etica. L'intento è stato quello di portare una riflessione spesso ridotta ai suoi rapporti individuali tra due persone in un ambito collettivo. Papa Francesco fra le prime cose che ha detto è che Dio non si stanca mai di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono, il che vuol dire che non crediamo in questa modalità di relazione fra le persone che porta a ricostituire una relazione ferita. Questo in realtà non appartiene solo al mondo religioso dei rapporti con Dio ma appartiene al mondo umano in senso autentico e anche meramente umano. E allora c'è parso che questa riflessione che si collega a uno dei temi trattati nel Festival, nei dialoghi sull'uomo dell'anno passato fosse un'occasione importante per riappropriarsi di alcuni aspetti fondamentali della nostra vita individuale e collettiva. E' anche una sorta di trampolino verso la prossima edizione di dialoghi sull'uomo che avrà un tema diverso, quello del viaggio. Se vogliamo il viaggio è metafora di tutto, è metafora della vita, è metafora anche della conversione, è metafora anche se vogliamo del processo che porta al perdono, che non è mai, io penso, un atto istantaneo, ma è una maturazione che avviene e che può cambiare le cose nella relazione fra le persone.